La figura del Presidente del Consiglio Comunale molto spesso è sottovalutata e di fondamentale importanza appunto per il corretto svolgimento dei Consigli Comunali. Adatessa, visto l'andamento finale soprattutto dell'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto opportuno intervistare proprio il Presidente del Consiglio Comunale Adatessa Roccomenna per farci spiegare un po' l'accaduto e per il ruolo che deve rivestire una figura come la sua. Certo, come ho già detto all'insediamento del primo Consiglio Comunale nel momento che sono stato eletto, ho espresso una forma di tolleranza molto ampia per dare possibilità a tutti quanti di esprimersi, l'importante è che non si arrivi poi ad una barahonda totale. In questo caso devo dire che l'ultimo Consiglio Comunale stavo cercando di essere tollerante perché insomma a me piace essere democratico e dare la parola a tutti quanti, ma poi quando succedono queste cose, questi fatti, devo attenermi per forza a quello che è il regolamento del Consiglio Comunale. Infatti l'articolo 23 del proprio del regolamento del Consiglio Comunale mette in evidenza il comportamento che devono avere sia gli interroganti che gli interrogati. Là si è andato un po' oltre quello che era il regolamento e se notate bene, magari alla registrazione, alla stessura della registrazione del Consiglio Comunale, si può evincere quando io ho detto la seduta è sciolta. Perché al momento in cui mi manca il numero legale è chiaro che la seduta è sciolta, ma io dovevo sciogliere comunque la seduta e stavo facendo proprio in quegli attimi che c'è stato quel fuggifuggi, in quel modo, diciamo, quella cosa poco simpatica e quindi praticamente la mia figura era quella, diciamo, di garantire il giusto e il corretto svolgimento del Consiglio Comunale. Io quello che voglio chiedere a tutti quanti i consiglieri, beh, non stiamo qua a giocarci né la visibilità né tantomeno non nel campagna elettorale, quindi voglio un appello vorrei fare. Cerchiamo di essere tolleranti l'uno verso gli altri e cerchiamo di far parlare un po' tutti quanti in modo che si può esprimere al massimo il pensiero. Nello stesso tempo chiedo a tutti quanti di volersi attenere a quelle che è il regolamento del Consiglio Comunale, di non andare oltre e di non usare frasi offensive, perché è chiaro che quando si usano delle frasi provocatorie ed offensive, sia da una parte che dall'altra, poi la risposta non può essere che poco felice e poco simpatica. Quindi questo è il mio appello. Il Consiglio Comunale quel giorno si è svolto nel migliore dei modi, anzi sono state votate anche a unanimità, a diversi punti all'ordine del giorno, compreso quella della tecnologia che noi stiamo mettendo in atto anche alla convocazione del Consiglio Comunale tramite la posta elettronica certificata, in modo che siamo un po' avanti e al passo con i tempi. È stato votato, quindi tutti quanti sono d'accordo che vogliamo informatizzarci al massimo, così come in altri argomenti. Io mi auguro che dal prossimo Consiglio Comunale possa ristabilirsi, ristaurarsi un rapporto di stime reciproca, a prescindere poi delle vedute che possono essere sicuramente diverse. Da ricordare che sul sito del Comune è possibile leggere integralmente il regolamento del Consiglio Comunale e facendo riferimento a questo episodio si consiglia caldamente la lettura dell'articolo 23. Volevo chiedere un'opinione al Presidente del Consiglio sul lavoro svolto da Abruzzo Web TV per la ripresa integrale che non dà adito alle interpretazioni di parte, visto che il cittadino può comunque farsi un'idea da solo. Anche nei vari passaggi, nei post messi su Facebook, sulla pagina del Seppolini, che sono stato coinvolto in qualche modo, ho cercato di evidenziare il lavoro onesto che svolge Abruzzo Web TV, un servizio che dà alla nostra città un servizio integrale, cioè senza modifiche, questo è il concetto che io voglio dire, voglio far passare, cioè la versione integrale è quella, quella è la verità, non esiste altre verità, perché se tu faresti il tuo lavoro da giornalista e hai una tua opinione politica, fai la domanda e la fai secondo quelle che sono le tue opinioni per far magari collimare positivamente su quelle che sono le tue idee. Ma se tu quello lo fai in qualche modo, ma mi sembra che dai la parola a tutti quanti, non mi sembra che ci sta questa grande diversità di trattamento. Ma quando c'è la versione integrale che va oltre poi quelle che sono le interviste, là il cittadino si fa una sua opinione, questo servizio, gli altri organi di informazione non lo fanno, riportano esattamente quello che gli viene detto da chi viene intervistato, è il modo in cui lo intervista e quando si va si deve andare un po' oltre la notizia, deve vedere perché è stato scritto, perché è stato fatto quel tipo di intervista, a chi risponde quella testata e così via dicendo. Abruzzo WebTV, il lavoro che fa Abruzzo WebTV, lo voglio dire a tutti quanti, ha dato la parola a tutti, quindi non penso che ci siano, se andiamo a vedere i minuti, le cose, salutare da tutti quanti. Fa un servizio, è l'unica televisione che abbiamo a disposizione in Atessa, riporta, è l'unica televisione che riporta integralmente, con tutto lo sforzo che viene fatto da te, Antonio e dai tuoi collaboratori, viene fatto uno sforzo enorme per mettere, anche sul sito, molto spesso lo devi fare a pezzi, perché non riesci a caricare tutti insieme, ciò significa che non esiste un'altra verità oltre a questa, al di là delle nostre interviste, perché io oggi faccio le interviste, posso essere di parte, l'intervistatore può essere di parte, tutto quello che vuoi, ma quella versione è là, quello che invidi i cittadini a vedersi, quella è la verità e meno male che ci sta. Per chiudere e per non dare adito ad ulteriori polemiche, anticipo che sono previste delle interviste a componenti dell'opposizione che per motivi loro lavorativi avverranno nei prossimi giorni.